Non ci sono medicine che ti posso dare, ma ti posso dire che nella mia esperienza ho scoperto che dentro di te c'è l'abilità di guarire. Il virus, la malattia, è dentro di te e dentro di te c'è anche la cura. Se tu incominci a parlare con queste verruche e lo fai in modo di dire loro, io vi accetto per quello che siete e accetto che siate state con me per tre anni e mezzo, ma ora vi prego di andarvene. Tu in questo modo metterai la tua energia e la tua capacità di guarire, capacità che tu hai per liberarti da queste cose. E Sage lo guardava con i suoi grandi occhi, affascinata. Ricordate che Sage ha avuto queste verruche per anni e gli ha dato molto fastidio anche se non lo metteva davanti agli altri. Poi tornammo a casa, dall'altra parte dell'isola dove noi alloggiamo, e quando siamo a Maui i bambini vanno a letto quando vogliono, si alzano quando vogliono, a volte i loro amici vengono a dormire da noi, quindi le stanze sono piene di bambini che mangiano, è un periodo di libertà. E una sera andai a dare la buonanotte, erano le due e mezza di notte circa, c'erano tutti questi bambini che erano sdraiati sul letto che parlavano. In un angolo c'era Sage nel suo letto, sotto le lenzuola, sola, che parlava. Ora mi avvicinai, anzai il lenzuolo e dissi, Sage, cosa stai facendo qui sotto? Sono quasi le tre di notte. Lei disse, shh, sto parlando con i miei tossi. E io mi misi a ridere. Andai da mia moglie e le dissi, non ci crederai, sono appena stato nella stanza dei bambini e Sage è a letto che parla con i suoi dossi. Ci ridemmo sopra e la mattina dopo le verruche erano ancora lì e non ci pensammo più. La sera successiva, ecco ancora Sage, a letto, che parlava con le sue verruche. Ed era mercoledì. Ora, quello che voglio dirvi è questo. Sage aveva queste verruche da quasi quattro anni. E il venerdì di quella stessa settimana, quattro giorni dopo aver parlato con quel medico, non un singolo dosso o verruche era presente sul suo viso e non è riapparso neanche uno da allora. Vedete, Sage non aveva nessun ego. Questo è il nocciolo della questione. E le chiesi, amore, cosa hai fatto con quei dossi? E mi ha risposto, non sono dossi, sono verruche. E comunque le ho date a Serena. Dentro di noi c'è questa consapevolezza. Questa consapevolezza del bambino che evita di dire non posso guarire da queste cose, non si può, è impossibile. Lei ha qualcosa altro dentro. Non so come l'ho chiamata nel mondo medico. Quello che è l'intenzione, parlando di intenzione, è una consapevolezza con assenza assoluta di pensieri tipo non posso farlo. Era così determinata e convinta di farlo che l'energia di guarire se stessa da qualcosa che aveva da quasi quattro anni ha lavorato. E a tutt'oggi non ha mai avuto più nessuna verruca e la sua pelle è liscia. È un concetto molto importante e vorrei parlarne da un punto di vista medico. Mi sono formato come neuroendocrinologo all'Università di Harvard e alla Boston University. Ricordo circa vent'anni fa una paziente che ricevetti che aveva appena fatto una visita con un oncologo per un tumore al seno e era devastata dalla notizia che aveva ricevuto. Il tumore era allo stadio 4 che è molto brutto in termini di statistiche. E non appena entrai nello studio le dissi Signora, ho cattive notizie e buone notizie. Le cattive notizie sono che lei ha un tumore ed il suo tumore è un brutto tumore è allo stadio 4. In altre parole significa che non ci sono cure. Le buone notizie è che io sono un medico e quindi forse la posso aiutare. Tutti abbiamo sentito parlare dell'effetto placebo. Nell'effetto placebo se c'è l'intenzione o la convinzione che questo placebo che sostituisce un medicinale funzionerà allora il placebo crea una risposta fisiologica. Infatti negli ultimi 10 o 15 anni sappiamo anche come questo funziona. Se voi pensate che questo sia un medicinale che toglie il dolore quello che viene chiamato un antidolorifico ecco che allora nel momento in cui voi prendete il placebo il vostro corpo genera endorfine e altre sostanze che sono più potenti di qualsiasi eroina voi possiate comprare per strada. Il tutto per creare quell'analgesico nel corpo quindi l'intenzione viene trasformata in una molecola. I placebo funzionano anche in altri modi quindi tutte le volte in cui l'intenzione viene introdotta oltre l'ego c'è una risposta biochimica. Ecco cosa fa un placebo. Placebo viene da una parola latina che significa io sarò consenziente. Quello che i medici non conoscono è l'effetto nocebo. Nocebo è l'opposto di placebo. Se voi dite alla signora Smith lei ha un tumore al quarto livello e le statistiche dicono che in circa 6 mesi il 90% delle persone muoiono a causa di questo tumore. Ora nel momento in cui la signora Smith ascolta queste parole pensa di essere in quel 90% di persone che moriranno e non pensa a quel 10% di persone che guariranno. E prima di tutto una cosa che non riconosciamo e perfino i medici intelligenti non riconoscono questa cosa. Cioè si dimenticano che la statistica non ha nulla a che fare con la prognosi del paziente. È come dire che la temperatura media di San Diego è 25 gradi. Questa media non mi dice la temperatura che farà oggi o che fa oggi a San Diego. Se dico che il reddito medio della zona di questa città è 100.000 dollari non so qual è il tuo reddito. Le statistiche non sono mai applicabili alla prognosi del paziente quindi non si possono usare. Ma lo facciamo. Lo facciamo sempre e creiamo l'effetto nocebo perché creiamo questa cosa. Le statistiche non funzionano. Per dire una battuta sessista che mi disse un amico e compagno di università le statistiche sono come una ragazza in bichini. Quello che dice è ovvio e quello che nasconde è più interessante. E c'è un'altra battuta che dice che 9 statistiche su 10 sono inesatte compresa questa. Quindi ricordate l'effetto nocebo. C'è un'espressione vedica che dice in ogni seme c'è la promessa di mille foreste e più. In ogni seme c'è la promessa di mille foreste e più. Meditare è l'abilità di andare oltre il pensiero. L'abilità di pensare come un essere straordinario. E ancora più straordinaria è l'abilità di non pensare. Mi piacerebbe finire la sessione di stasera con una citazione di Kafka che quando parlò di meditazione disse in Australia gli aborigini hanno un'usanza. Se qualcuno vi sta antipatico andate dello stregone o dottore delle erbe e gli dite che volete liberarvi di questa persona. Lui prende un pezzo di legno fa un rituale dopodiché vi dà questo pezzo di legno e vi dice di puntarlo verso questo vostro nemico questa persona che vi sta antipatica. Nel giro di 24 ore dall'atto di puntare il legno il vostro nemico incomincerà ad avere nausea e vomito. Tre giorni dopo sarà disidratato e in meno di una settimana morto. Il governo australiano ha proibito con una legge questa usanza. Ecco quanto un'idea può essere potente viene trasformata in quello che è stato pronosticato quello che ci si aspetta. Quindi le statistiche dovrebbero essere ignorate. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è non mettete la vostra attenzione su quello che non volete. Se volete liberarvi da questo tumore evitate di pensare che non volete morire e pensate a come volete vivere la vostra vita. E siate coscienti di tutti i luoghi e le situazioni che incontrerete e del tipo di informazione che volete inserire nel vostro sistema e di quelle che volete evitare. Si chiama campo energetico. Significa che qualsiasi sia il campo energetico nel quale vi trovate se lasciate che sia contaminato da altri che vi tirano giù vi ritroverete ad acquisire le cose che non volevate. Quindi è un po' come mantenere il proprio campo energetico veramente pulito. Ecco perché non condividere le informazioni. Se il dottore vi dice che vi restano sei mesi di vita non lo dite a nessuno perché poi le persone vicine a voi cominceranno a contare i giorni. Sapete dove ci sono i testamenti ci sono i parenti. Io e Deepak siamo diventati amici e colleghi circa dieci anni fa. Io ero a Seattle stavo promuovendo un libro e mia moglie mi chiamò per dirmi che aveva un nodulo alla tiroide che era la peggiore delle prognosi e che uno dei dottori che l'aveva vista le aveva detto che era necessario un intervento immediatamente e che era molto probabile che fosse un tumore e che avrebbe perso la gola e così via. Era una situazione veramente difficile e io ero devastato dalla notizia stavo andando in onda sul programma Good Morning Seattle e cercavo di rimettermi in sesto mentre pensavo a mia moglie e uno dei libri di Deepak era uscito da poco penso che forse dovevamo apparire insieme in qualche programma televisivo in San Francisco come ospiti e io chiamai il suo ufficio e Mars e mia moglie andò nel suo centro che a quei tempi era a Lancaster nel Massachusetts e Deepak divenne il suo medico lei fece tutto il programma imparò a meditare non aveva mai meditato prima di allora imparò questi modi per meditare altre cose tutte quelle cose straordinarie che insegnano al Chopra Center oggi sta bene e fu detto prima di questo che avrebbe dovuto prendere medicine per la tiroide per il resto della sua vita e invece non le prende perché la sua tiroide funziona perfettamente praticamente è guarita completamente ed Deepak a detta di mia moglie le ha salvato la vita questa è una storia vera prima hai parlato e così ho fatto io della sorgente cos'è questa sorgente? ricordo quando ero un ragazzino vivevo in questa casa dove ero stato affidato c'era questa abitudine in primavera la signora Scarf prendeva un sacchetto di semi semi secchi di pomodoro io avevo 4 anni mio fratello Dave era con me e avevo una piccola paletta facevamo un buco nel terreno e la signora Scarf metteva questi semi nel buco mentre io li ricoprivo e Dave bagnava il tutto poi ci annontavamo in circa un metro per rifarlo nuovamente per tutto il pezzo di terra che era disponibile e ricordo come se fosse ieri che le chiedevo continuamente chiedevo continuamente la signora Scarf da dove venivano i pomodori da dove vengono i pomodori e lei rispondeva Dio ci porta questi pomodori e io le dicevo ma se Dio ci porta questi pomodori perché facciamo tutto questo? mi sembrava molto lavoro da fare se poi Dio ci portava i pomodori e lei diceva no 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 i pomodori sono nei semi e io pensavo i pomodori sono nei semi e da ragazzino ci penavo e mio fratello che era in prima elementare aveva uno di quei righelli con la lente di ingrandimento di plastica e io gli dissi vai a prendere la lente prendemmo tutti questi semi li tagliamo letteralmente per cercare questi mini pomodori all'interno grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori